Buona forma a tutti, non potevamo che avere il più bravo il dottor Fabrizio Duranti, esperto di metabolismo, bentornato dottore, per ritrovare la forma perduta. Allora, parlavamo un istante fa con il dottore, non stiamo parlando di miracolistica, dovremmo teoricamente, come lei scrive nel suo cambio pelle, dottor Duranti partire, non so, da novembre per arrivare a... Oppure cominciamo oggi per la prossima estate. Per la prossima estate, però possiamo pensare ad esempio di iniziare oggi per la prossima estate. E quindi, no miracoli, però da dove dobbiamo partire? Dunque, ecco, da dove dobbiamo partire? Si può partire in base alla nostra condizione fisica di partenza, perché chiaramente noi non dobbiamo cercare mai, non dobbiamo tentare di generalizzare mai troppo, perché gli esseri umani, apparentemente simili fra loro, però sono molto diversi, hanno metabolismo diversi, hanno vite diverse, e quindi il problema qual è? Che si può tentare una generalizzazione quando si vede che, purtroppo, molte persone fanno una vita un po' sedentaria, sono in sovrappeso, e quindi si possono aiutare come? Cercando di andare a ridurre l'attività di un ormone, che è questa insulina, che viene stimolata molto dai carboidrati, e per cui la maggior parte delle persone sotto questo stimolo insulinico sono un po' sempre attratti da questi carboidrati e entrano in questo circolo vizioso. Quindi bisogna cercare di ridurre questo stimolo di fame. Yogurt con frutte e cereali e qualche fettina di bresaola, perché questo ci insegna a coccolare di meno il pancreas, cioè a coccolare di più il pancreas e a spingere meno l'insulina. Cioè nel senso che mangiare qualche fettina di bresaola prima o anche una frittatina, io capisco che in Italia siamo poco... Anche una frittata, va bene? Sì, va bene. Una fonte proteica, una piccola fonte proteica, un uovo sodo, voglio dire, quello che sia, un po' di ricotta, tanto per capirci, e poi facciamo la nostra colazione con un po' di yogurt, un po' di frutta. Che succede? Che quella componente, quel macronutriente di proteine che ingeriamo prima, nel momento in cui si mescola ai carboidrati di dopo, né mitiga né spegne un po' la spinta insulinemica, cioè l'indice glicemico, né abbassa l'indice glicemico, che poi tutte queste diete si dicono a basso indice glicemico, no? Certo. Per cui in quel modo lì noi abbiamo una spinta inferiore dell'insulina, quindi tutti i benefici che si ottengono da questo fatto qua, non esasperati come nella dieta dove invece si mangiano solo proteine, ma danno al corpo un segnale molto più sano e quindi unito all'attività fisica otteniamo il risultato in maniera molto più fisiologica. Quindi bresaula o ricotta, oppure una piccola frittata. O un uovo sodo. O un uovo sodo. E poi ci mangiamo due fette biscotte. Cereali intende? I fiocchi di cereali, insomma. I fiocchi di cereali, chiaramente, con un po' di yogurt, oppure anche due fette biscottate con la marmellata e del tè. Insomma, a quel punto, una volta che io ho fatto precedere una fonte proteica, sono più tranquillo, perché è meno un problema di calorie, ma più un problema di ormoni di ingrassamento. Di ormoni di ingrassamento. Molto bene, domani colazione è subito così. Pranzo, pranzo tipo, pasta integrale con verdura, pesce azzurro o carne bianca? Ecco, una considerazione. Se domani fa colazione in questo modo, scoprirà anche un'altra cosa interessante, la lucidità mentale. Cioè l'insulina dà anche un po' di sonnolenza. Facciamo un esempio che tutti hanno sperimentato. Se noi facciamo un pranzo, adesso stiamo parlando di pranzo, facciamo un pranzo a base di carboidrati, mangiamo adesso senza arrivare alle lasagne, ma insomma un bel piatto di pasta, noi abbiamo una sorta di stanchezza post-brandiale, non assupimento così. Che cosa succede? Se invece noi mangiassimo soltanto una caprese, la mozzarella con i pomodori, noi ci sentiamo molto più svegli subito dopo. Quindi cosa significa? Significa che le proteine, non alzando l'insulina, danno questo tipo di effetto. E' questo il successo degli dieti iperproteiche, che però poi ci mettono in una situazione dalla quale difficilmente usciamo. Invece noi dobbiamo trovare un giusto equilibrio, per questo un po' di pasta integrale con del pesce azzurro o con della carne, con delle verdure, riesce attraverso le proteine della carne e del pesce a mitigare la spinta. Oltretutto la pasta integrale contiene le fibre e quindi anche i carboidrati della pasta vengono assorbiti meno velocemente con una spinta insulinemica e quindi con una stimola all'insulina più modulata. E quindi si tratta di modulare l'insulina. Altro strumento per modulare l'insulina è l'attività fisica. Perché quando noi aumentiamo i muscoli, i muscoli hanno i recettori per l'insulina e quindi gli zuccheri, invece che andare a formare i trigliceri del grasso, vanno a formare muscolo. Muscolatura. E quindi il glicogeno. Dottor Dunanti, lei è chiarissimo. Dopo il pranzo passiamo alla cena. Non abbiamo parlato per ora dell'intermezzo, cioè di quello che può essere uno yogurt, uno spuntino, una frutta. Verdura, legumi o carne, cereali integrali a cena? Sì, allora il discorso è ogni volta che noi parliamo di un cereale, lo possiamo mettere, il cereale integrale, noi lo possiamo anche utilizzare all'interno di una zuppa di legumi. Possiamo comunque, sardo, possiamo giocare in questo modo. Il discorso è che spesso il pranzo viene consumato fuori, no? E quindi è difficile organizzarsi con dei cibi più ricercati, come i legumi, è più difficile trovare a pranzo. Quindi a pranzo è sempre meglio mangiare l'insalata con tonno mozzarella, pomodori e magari con un crackers, un po' di pane integrale. Mentre la cena ci possiamo appunto ottimizzare senza, piuttosto che mangiarci troppi carboidrati, andare per esempio sui legumi, unirli a dei cereali, cose di questo genere. Molto bene. L'ultimo cartello sono gli alimenti del benessere. Ce ne sono tanti, chiaramente, con il dottor Duranti però sono stati scelti quelli che possano valere di più. Vediamo il cartello. Mele e pompelmi, buoni. Pane integrale, spinaci e broccoli, pesce e carne grass fed. Cosa vuol dire? Allora, andiamo velocemente. Le mele e pompelmi le citiamo perché contengono la pectina, che è questa fibra idrosolubile e quella è contenuta sostanzialmente nella pellicina bianca degli agrumi, quindi meno la togliamo e meglio è quando mangiamo gli agrumi. Per questo mangiare la frutta intera piuttosto che la spremuta, perché prendiamo la pectina, questa è una fibra idrosolubile che vuol dire che nel momento in cui noi la ingeriamo, è idrofila, si gonfia e quindi ci ripulisce l'intestino, migliora l'assorbimento del colesterolo e diciamo il metabolismo del colesterolo. Per quanto riguarda invece il discorso della carne grass fed è un termine strano, vuol dire di diciamo animali allevati ad erba. È molto difficile trovare la carne grass fed però è giusto anche segnalarlo, è stato giusto inserirlo nel cartello nel senso che poi è giusto sensibilizzare le persone e cercare di capire che anche quando mangio la carne capire da dove viene è estremamente importante insomma questo è il discorso. E poi l'aspetto integrale anche qui la ricerca della filiera cercare di comprendere chi mi dà da mangiare quindi il mio fornitore sia il più affidabile possibile nel garantirmi che quel cibo sia fatto veramente con la farina integrale biologica tutto quello che può darmi qualità perché io me lo metto dentro e quindi ho bisogno di sapere cosa è. I cibi devono avere la loro carta d'identità questo dottor Duranti ecco ce lo spiega in questa indicazione è una cosa sulla quale dobbiamo diventare assolutamente quasi antipatici cioè dobbiamo chiedere ricercare guardare inforcare gli occhiali se ci servono andare a leggere tutte le carte di identità che devono essere segnalate in etichetta cambio pelle il metodo naturale per ritrovare luminosità salute e giovinezza eccolo qua il mio Max da Spelling e Kupfer a forma di a firma scusate forma a proposito di Riccarda Serri e del dottor Fabrizio Duranti voglio ricordare anche il sito del dottor Duranti www.studio trattino Duranti punto it se questa dieta noi la portiamo avanti sempre il discorso è questo che poi noi invece dobbiamo piano piano recuperare i carboidrati per quel motivo della tiroide di cui parlavamo la volta scorsa quindi all'inizio può avere un senso anche quello è un problema delle diete a basso diciamo quantità di carboidrati quindi troppe proteine perché poi mi addormentano la tiroide e mi si abbassa il metabolismo quindi io devo intervenire quel mio metodo lo spiega bene questo è il settimo libro che ne ho scritti altri sei su come si fa per tenersi in forma ma significa cominciare a muoversi allora poi un organismo che si muove e che fa attività fisica stimola gli ormoni ieri proprio sulla mia pagina facebook ho detto guardate tutti quelli che corrono e basta e vanno in bici io sono un sostenitore di attività aerobica però ho detto ragazzi andate una volta o due in palestra se no si abbassano gli ormoni cioè la nostra giovinezza dipende dal tono dei nostri ormoni si parla di endocrino senescenza che significa significa che io invecchio nella misura in cui diminuiscono i miei ormoni per tenere sui miei ormoni gli ormoni sessuali per la mia salute e per il mio benessere uno degli stimoli più importanti è l'attività fisica intensa alla quale devo associare un'attività fisica di resistenza e qui io mi copro dottor Duranti grazie anche se gli ormoni godono di ottima salute ma è solo tanta fortuna e dottor Fabrizio Duranti sarà ancora con noi grazie dottore grazie davvero